C'è un po' dottiere! Grazie, che bello! Prince, allora lui una volta era previsto che il quinto elemento, il film di Louis Besson, che ha tutti i costumi. Lui doveva lavorare in questo film, fare una parte, e a un momento aveva un costume che era un po' speciale, devo dire, un filetto, una rete, con dei peli di là, dei falsi peli di là, e lui l'edito, e qui vede il disegno, qui c'è come un focu, come un focu, e il focu, che fa grosso il derriere, un po' una struttura del secolo passato, e lui ha fatto, ha pensato che gli dissa, it's like a focu. Ah, pensava l'avessi? A Montreal hanno fatto una retrospettiva sulla tua vita, volevo chiederti che effetto fa avere una retrospettiva da vivo, perché di solito sono cose che si fanno poi quando... Una persona è morta! Eh, di solito, di solito, sì! Beh, era un po' scioccato, ho detto, eh, non è ancora l'età di aver questo e... Sì, tra l'altro c'è un libro che poi racconta di questa retrospettiva che è... che pesa e anche può servire per fare la gimnastica. Sì, perché pesa... Perché pesa a chili! Non è l'unico problema, provi a rimetterlo dentro, perché... Ah, è difficilissimo! È difficilissimo, e dobbiamo farlo in due! Beh, a due, veramente! È una penetrazione difficilissima! Sì! Non... se manca la... 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 Se manca molto... Se manca l'amore, se manca l'amore... Esattamente! Aspetta, eh! Non è abbastanza wet, wet, wet! Eh, non è wet, wet, no! Bisogna... Umido! Perfetto, bravo! Tu è meglio che me! Ok... Piede sinistro, sul rosso! Piede sinistro, sul rosso! Piede sinist... Come si la... Piede sinistro, sul rosso! Eh... Oh! Mano sinistra, sul rosso! Aspetta che... Apanaggio la miseria! Piede sinistro... Sul rosso! Piede sinistro, sul rosso! Piede sinistro...